Anche se il mercato ribassista sembra non finire mai e si prospettano periodi bui per l'economia, le persone che fanno i soldi e sognano la ricchezza sanno trasformare questi periodi bui in opportunità. Ecco, questo potrebbe essere uno di quei momenti. Quindi se anche tu vuoi fare i soldi con le cripto, potresti sviluppare questo periodo per trovare i giusti investimenti. In questo video ti dico le mie top 6 criptovalute che ho selezionato per questo bear market. E le vediamo insieme subito dopo la sigla. Benvenuto o benvenuta nel canale del Marchese del Cripto dove si parla solo pane al pane e vino al vino. Prima di iniziare vorrei che tu tenessi a mente tre fattori. Il primo è che questi non sono consigli finanziari ma sono solo opinioni personali. Il secondo è che è importante anche valutare il timing sia di ingresso che di uscita quando si investe in criptovalute. Ossia entrare nel giusto momento a un determinato prezzo e vendere naturalmente ad un altro ad un prezzo maggiore. Naturalmente sarebbe fantastico acquistare al minimo e vendere al massimo ma siccome è praticamente impossibile e dato il momento storico che stiamo vivendo che per quanto mi riguarda per come la penso io è solo appena iniziato preferisco suddividere i miei investimenti in più tranche scaglionati nel tempo. In modo tale da mediare il prezzo ed avere soprattutto pazienza per un orizzonte temporale più ampio. Il terzo invece è quello di seguire i progetti. Quel che dico oggi potrebbe già non valer più domani. E questo per una serie di motivazioni. Rimanere aggiornati ed avere la forza di cambiare la propria opinione su un progetto, su un team, su un criptovaluta e in caso si scelga di cambiare rotta potrebbe naturalmente essere sinonimo di intelligenza. Tu cosa ne pensi? Bene, fatte le doverose premesse, ora andiamo a vedere quali sono queste 6 criptovalute sulle quali punterò in questo bear market. La prima criptovaluta sulla quale punterò è Cardano ADA. Si lo so quello che starete pensando, che sicuramente che sono lenti, che impiegano una maria di tempo per lasciare aggiornamenti e questo naturalmente è vero. Poi dobbiamo anche pensare che Cardano è una blockchain che ha un approccio scientifico, è una blockchain che inizia già ad avere un utilizzo reale, è una blockchain che ha delle idee completamente differenti rispetto alle altre. E questo fatto di non essere veloci e di non rispettare le scadenze, a mio modo di vedere non è solamente un fattore negativo, ma è semplicemente perché vengono fuori bug e prima di inserire il tutto in una blockchain, la quale deve contenere i soldi, deve maneggiare diversi soldi in criptovaluta di una marea di utenti, naturalmente preferisce fare le cose con prudenza e prima di rilasciare un aggiornamento valutare bene tutte le possibili conseguenze e fare tutti i test del caso. Infatti stiamo ancora attendendo l'aggiornamento Vasil di Cardano, il quale era previsto per qualche mese fa che dovrebbe rendere la blockchain migliore e soprattutto più compatibile con le altre. E siccome molti sviluppatori lavorano su Cardano, stanno uscendo fuori in continuazione bug e questo, ma a mio modo di vedere, è un bene, perché evidentemente riescono a sistemare le cose prima di fare aggiornamenti. E questo naturalmente non può che farmi piacere da un lato, perché evidentemente quando usciranno gli aggiornamenti daranno la sicurezza, perlomeno si spera, che non ci saranno bug oppure falle come abbiamo visto capitare in diverse blockchain e in diversi protocolli. E questo, a mio modo di vedere, è un aspetto positivo. Non so, dimmi anche magari tu cosa ne pensi. Per molti è definita la Ethereum killer, a mio modo di vedere sono completamente differenti, benché ricordatevi un aspetto, Cardano nasce in Proof of Stake mentre Ethereum lo sta per diventare, anche sperando comunque sia che non ci saranno mai intoppi sotto questo aspetto. E non ci dimentichiamo poi che probabilmente Cardano sarà forse una delle poche blockchain che probabilmente rimarranno realmente decentralizzate. Non ci dimentichiamo poi del token ADA che ha una supply ben definita, ben delineata e quindi non possono essere prodotti al momento più di 45 miliardi di token ADA, salvo votazione decentralizzata da parte della governance. E questo potrebbe innescare il meccanismo di scarsità e quindi in futuro il token ADA potrebbe acquistare valore. La seconda cryptovaluta sulla quale punterò in questo bear market è quella dell'exchange crypto.com, ossia sto parlando del token CRO. Sì, anche in questo caso abbiamo visto un grosso calo di prezzo soprattutto negli ultimi periodi dovuti ad alcune politiche aziendali che hanno ridotto il cashback ad esempio sulle carte di credito, sulle carte di debito che vengono lasciate dall'exchange. Ma anche in questo caso sotto il mio punto di vista quello che all'apparenza sembra un aspetto negativo può in realtà rivelarsi una opportunità. Questo passaggio era doveroso per una sostenibilità a lungo termine dell'exchange. È un exchange che sta investendo grossi quantitativi di capitali in marketing e in pratica si sta espandendo su tutto il settore sportivo, addirittura uno stadio con il proprio nome e addirittura uno degli sponsor principali della nostra serie A di calcio. E non passa giorno che non escono notizie positive per quanto riguarda questo exchange. Inoltre dobbiamo ricordarci che è un exchange ancora tra virgolette piccolino se paragonato ad altri exchange più blasonati come ad esempio Binance. Il che significa avere un grosso margine di miglioramento e non passa giorno che non vedo nuove implementazioni che vengono effettuate da questo fantastico exchange. Inoltre sta prendendo tantissime licenze per operare in modo trasparente in diverse parti del mondo e anche gli sviluppi sulla sua blockchain, la Kronos Chain, non stanno andando affatto male. Naturalmente in questo momento sono scesi di tanto i soldi all'interno della DeFi ma non solo quella di Kronos, quella di tutte le blockchain dato proprio il periodo. Ma questo non significa che in un futuro non potremmo rivedere una ripartenza della DeFi. Pochi giorni fa proprio riguardo alla sua blockchain è stato effettuato con successo un miglioramento. Sì naturalmente è una blockchain maggiormente centralizzata rispetto a quella precedente di Cardano ma non sempre la centralizzazione è un aspetto negativo. Naturalmente basta che Kronos che però è contro. Per quanto riguarda il token, il CRO come nel caso precedente ha una supply ben definita, anzi inizialmente avrebbe visto una supply massima di 100 miliardi di CRO, poi dopo è stato effettuato un burn fra i più grossi della storia e il 70% di questi 100 miliardi di token sono stati bruciati. Quindi ora la sua supply massima è di circa 30 miliardi. Se in futuro come credo dovesse aumentare l'utilizzo delle criptovalute da parte di più persone, probabilmente Crypto.com sarà uno degli exchange preferiti dai nuovi entrati. In più se ci aggiungiamo delle onestissime reward da staking, questa non può far altro che diventare una delle mie cripto preferite sulle quali punterò in questo bear market e potrebbero magari darmi una soddisfazione nella prossima bull run. Se dopo attente ricerche e dopo tua analisi decidi che anche a te possa interessare CRO, ti lascio qua sotto in descrizione il link con il quale avrai anche un bonus di benvenuto per l'iscrizione sull'exchange di Crypto.com mettendo i staking i tuoi CRO. Visto che il merge di Ethereum si sta avvicinando voi vi starete chiedendo se ho deciso di puntare su Ethereum. In questo caso vi dico di no, non perché penso che possa andare male. Per la mia situazione personale rapporto rischio beneficio Ethereum non lo trovo allettante, probabilmente ad un prezzo più vantaggioso, magari deciderò di aumentare le posizioni anche su questa criptovaluta. In ogni caso, anche se non punterò direttamente su Ethereum, preferisco una criptovaluta legata ad esso. In pratica sto parlando di Polygon Matic. Matic è un layer 2, in pratica una blockchain collegata ad un'altra principale, in questo caso la blockchain di Ethereum, la quale permette di alleggerire il carico proprio su quella principale. Stanno facendo diversi accordi con diverse aziende, una fra tutte ad esempio la Disney, ma ce ne sono davvero tante. Mi piace la community di Polygon Matic, oltre a questo mi piace molto anche il team, si adoperano molto nel suo sviluppo. Sul lato marketing nulla da dire, sul piano commerciale stesso identico discorso. Ci sono state comunque sia alcune falle per quanto riguarda Polygon Matic, ma il team ha sempre reagito in maniera molto rapida e per quanto mi riguarda potrebbe essere un ottimo braccio destro per quanto riguarda la blockchain di Ethereum con una capitalizzazione più bassa e quindi con un potenziale di crescita maggiore. Per quanto riguarda il prezzo in questo momento siamo intorno agli 80 centesimi dollari. A mio modo di vedere è un pochettino alto visto il periodo e visto il momento, quindi probabilmente aspetterò quello dovesse scendere ulteriormente per iniziare a effettuare ingressi scaglionati su questa crypto. Per quanto riguarda il token Matic, come nei casi precedenti, è una supply ben definita, infatti ci saranno al massimo 10 miliardi di token, salvo naturalmente cambiamenti che potrebbero avvenire in futuro. Ti lascio proprio un video che ho fatto un po' di tempo fa e ti spiego quali sono le motivazioni per cui dovresti investire in Polygon Matic e altre per quale non dovresti farlo. Magari dagli anche una occhiata per avere una panoramica più ampia e poi naturalmente fai le tue opportune ricerche. Ad ogni modo anche su questa blockchain, come la blockchain principale di Ethereum è stato effettuato un aggiornamento con l'EAP 1559, in pratica brucia un po' di token Matic su ogni transazione e questo potrebbe portare con un maggior utilizzo di questa blockchain a una riduzione nel tempo di questo token. Quindi per questo gli aspetti detti in precedenza non posso farmi sfuggire questa criptovaluta. Se mi segui da tempo e sentire questa quarta criptovaluta che ti dirò ti farà probabilmente storcere il naso, ma ti spiegherò anche i motivi. Infatti questa criptovaluta è una meme coin, nella fattispecie sto parlando di Shiba Inu. Perché ho deciso che punterò su Shiba Inu? Perché Shiba Inu è una meme coin? benché insomma ci sia un grosso sviluppo dietro, una grossa comunità che sta implementando tanto, ma è una delle criptovalute che fa avvicinare le persone in questo settore. In pratica molti si sono avvicinati alle criptovalute per Doge Coin oppure per Shiba Inu e questo farà sì che se dovesse continuare questa tendenza, questo trend, in futuro anche le nuove persone che arriveranno potrebbero acquistare proprio Shiba Inu oppure Doge Coin come criptovalute principali. Questo fa sì che naturalmente più persone detengono questa cripto più il prezzo potrebbe risentirne in maniera positiva. Non a caso in questo momento è dodicesima per Market Cap su CoinMarketCap proprio per questa grande capitalizzazione di mercato che attualmente possiede. In questo caso parlare della sappa del token la vedo completamente inutile. Infatti qui stiamo parlando di un aspetto puramente speculativo e puramente di ideologia. Infatti io non investirò in questa cripto perché mi piace o perché ha una tokenomics favorevole, ma semplicemente per le motivazioni espresse poc'anzi. E sempre in virtù di questo aspetto non mi interessa neanche vedere quello che faranno in futuro. Naturalmente li seguo perché se dovesse succedere degli eventi negativi oppure improvvisi mi piacerebbe essere pronto da quel punto di vista. Ma non mi interessa conoscere se stanno progredendo con la roadmap o altri aspetti di questo tipo. Praticamente sono quasi sicuro che quando la Market Cap globale sulle criptovalute dovesse aumentare molta liquidità finirà sul token SHIB. Passiamo adesso alla prossima criptovaluta sulla quale punterò perché sembra naturalmente strano ma l'ho dovuta necessariamente inserire. Capirete bene insomma di cosa sto parlando. Infatti sto parlando del re delle cripto, naturalmente di Bitcoin. Probabilmente Bitcoin è l'unica vera cripto che già in questo momento è realmente decentralizzata. è la prima criptovaluta uscita. È la cripto che probabilmente diventerà in futuro riserva di valore o così almeno credo e spero. Naturalmente non si può pensare di fare degli investimenti di criptovaluta senza naturalmente e preventivamente avere dei Bitcoin o dei Satoshi nel proprio wallet. Satoshi qualora non lo sapessi significa porzioni di Bitcoin. Per quanto riguarda la cripto in sé, BTC, cos'altro dire? Che ci saranno un massimo di 21 milioni. Gli ultimi Bitcoin verranno minati, in pratica generati nel 2140. Oltre a questo chiaramente sta avvenendo una adesione sempre maggiore da parte di investitori retail, oltre che naturalmente di istituzionali. Non può assolutamente mancare il re nelle cripto, nel proprio wallet. Quindi sfruttare questo bear market per acquistare ancora porzioni oppure Bitcoin può essere un aspetto che può fare davvero la differenza sul lungo termine. Bene, se ando fin qui, adesso posso dirti anche l'ultima cripto sulla quale punterò nel prossimo bear market. Anche se ti dico la verità, ero un pochino indeciso se metterla o non metterla. Anche perché la prossima settimana farò uscire un video nel quale dirò le criptovalute che hanno un potenziale ottimo, ma nelle quali bisogna prestare attenzione a determinati aspetti. E quindi ero indeciso se metterla fra queste. Ma ho deciso invece di mettere fra questa top 6, in questo caso sto parlando di un progetto legato al metaverso, in pratica Sandbox. A quanto pare il futuro potrebbe essere legato ai metaversi. Di questo diversi progetti sono naturalmente nati e molti ne nasceranno. Ma uno di quelli che si trova in vantaggio in questo momento è sicuramente Sandbox. Sul metaverso di Sandbox è possibile fare una marea di cose, come ad esempio incontrarsi, lavorare, giocare. Insomma chi più ne ha più ne metta, un po' come quello che avviene nella vita quotidiana. Ed è uno dei pochi metaversi che già ha diversi accordi con diverse aziende importanti, le quali hanno deciso di investire proprio su questa piattaforma. Naturalmente essendo in questa fase capire quale metaverso potrebbe avere un futuro, e se Sandbox potrebbe essere fra questi, è un po' come fare 6 al super e all'8. Ne sono una marea di progetti, ci saranno tantissimi cambiamenti che avverranno da qui ai prossimi periodi. Fare previsioni è davvero azzardato. Quindi è questo l'aspetto che mi fa essere un po' dubbioso su questo progetto? Non solo perché non è solo capire quale di questi metaversi sarà il futuro, se naturalmente i metaversi saranno il futuro, se o quali o quanti, ma anche un altro aspetto da tenere in considerazione. E sto parlando della tokenomics del progetto. Infatti ci saranno al massimo 3 miliardi di token Sand in circolazione, anche in questo caso una supply definita e ben delineata, come al solito salvo diverse scelte, ma per quanto riguarda in questo momento i token in circolazione sono orientativamente la metà. Il che significa che nei prossimi periodi naturalmente ancora non ci fosse un'inversione di trend da parte della capitalizzazione di mercato delle crypto in generale, il prezzo potrebbe continuare a scendere con l'emissione di questi nuovi token. Ma se come detto inizialmente in questo caso allora, con il giusto timing, potrebbe rivelarsi davvero un'ottima opportunità per il prossimo bull market. In ogni caso se vuoi approfondire un qualcosa di più su Sandbox, vi lascio qua sopra un video nel quale vi spiego diversi aspetti della piattaforma di Sandbox e del suo token Sand. Ora ti ho detto le crypto sulle quali punterò in questo bull market. Tu fammi sapere le tue, magari scrivele qua sotto nei commenti. Probabilmente se mi segui ti sembra strano che non ho inserito Polkadot fra queste 6 crypto nel quale punterò nel prossimo bull market, ma te lo spero come detto nel video della settimana successiva dove inserirò Polkadot fra queste crypto, le quali hanno del potenziale ma con alcuni problemi che andrebbero risolti. Se hai trovato utile queste informazioni per favore lascivi un bel like, iscriviti al canale e attiva la campanella e ci si vede al prossimo del Marchese del Crypto. Ciao, buona giornata.